Nessuna decisione presa ma se ne parla. L'amministrazione di Roncade è in fase di valutazione dell'istanza preliminare in cui Amazon esplicita l'intenzione di sbarcare nel Trevigiano con un polo logistico nell'area in uscita dal casello Meolo Roncade all'incrocio con la Treviso Mare. La proposta ci è arrivata dalla proprietà, una società che ha sede legale a Verona, la FareSì SRL, la società che dovrebbe attuare e quindi il soggetto attuatore dell'investimento che è la Techbau, una società piemontese e l'utilizzatore finale appunto indicato come Amazon Italia Logistica SRL. Si tratterebbe di un magazzino di 59 mila metri quadrati che insiste su un'area complessiva di 180 mila. Un deposito robotizzato in cui ovviamente hanno indicato anche il tipo di impiego come lavoratori che verrebbero chiamati ad operare nello stabilimento medesimo e ha previsto ingresso ed uscita di camion, di tir, che andrebbero a ritornare dopo esservi arrivati nei nodi autostradali. Ha aperto il confronto con i consiglieri e i sindaci dei comuni con termini le cui arterie viabili potrebbero essere interessate e gli enti competenti per raccogliere un parere preventivo. Al vaglio diversi aspetti. Non è soltanto un impatto ambientale che dobbiamo tenere presente, è anche l'impatto sul luogo, è anche l'impatto sul traffico, è anche l'impatto sulla vita della comunità e poi c'è naturalmente anche l'aspetto dell'occupazione. Intanto il primo step è la conferenza dei servizi, fissata per il 12 febbraio.